Ai calendari vaccinali di ottobre si aggiungono anche le nuove date dei camper itineranti. Infatti l'area Vasta 1, oltre al primo mezzo utilizzato per somministrare le seconde dosi di vaccino, sta impiegando un secondo camper. Dopo l'avvio di sabato scorso nel comune di Urbino, da oggi a mercoledì, stazionerà nel parcheggio della cooperativa Tre Ponti a Fano dalle 10 alle ore 17. Non serve la prenotazione, è sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria e un documento d'identità, a compilare l'apposita modulistica e poi rispettare il periodo di osservazione di 15 minuti dopo l'iniezione. Nella prima quindicina di ottobre sarà prevalentemente dedicato ad offrire le prime dosi a lavoratori che ancora non si sono vaccinati. Come sappiamo dal 15 ottobre per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati occorrerà essere obbligatoriamente muniti di Green Pass, quindi o vaccinati, con entrambe le dosi, oppure esibire un test antigenico molecolare per SARS-CoV-2 ogni 48 ore. Terminata questa prima fase, ha aggiunto Carlotti, il camper 2 sia ad ottobre che a novembre sarà dedicato alla somministrazione delle prime dosi nelle fiere, sagre paesane e luoghi del divertimento. La prossima settimana, da martedì a venerdì, stazionerà sempre dalle 10 alle 17 nei poli industriali dell'entroterra. I luoghi che verranno stabiliti a breve potranno essere consultati sul portale e sulla pagina social di Azur Marche. Quindi l'obiettivo è quello di recuperare ulteriormente persone non ancora vaccinate, anche col camper 2, mentre il camper 1 proseguirà la sua campagna nei siti già visitati, con l'obiettivo fondamentale di offrire nelle stesse location visitate in agosto e settembre le seconde dosi. Nella città di Fano si parte proprio dalla cooperativa Tre Ponti? Sì, abbiamo sposato questa iniziativa da parte dell'Azur, abbiamo insieme a Gino Bartolucci che è il presidente della cooperativa Tre Ponti, io rappresento la CNA che è l'associazione elettoriale delle piccole e medie imprese, proprio per incentivare la vaccinazione e per far sì che il mondo del lavoro non abbia maggiori ripercussioni rispetto a quelle che ha già avuto e quindi speriamo che le imprese anche con questa iniziativa proprio atta a agevolare e a incentivare la vaccinazione rispondano in maniera positiva.